I Rotary Club di Roma Cassi, Roma Palatino e Roma Sud Ovest hanno organizzato nella splendida cornice del Roma Polo Club una serata di beneficenza con la collaborazione degli Chef Rotisseur, maestranze dell'Alta Cucina. Allo spettacolo di una partita di polo è infatti seguita una cena di beneficenza sostenuta dagli ospiti con un contributo di 50 euro a persona e l'intero ricavato è stato devoluto all'Unione Italiana Cechi Onlus di Pesaro per sostenere il progetto di formazione e inserimento al lavoro di 5 ragazzi non vedenti. Perché questa serata di beneficenza in favore dell'Unione Italiana Cechi di Pesaro? Diciamo che tutto è scaturito dal fatto che l'Unione Italiana Cechi, non solo quella di Pesaro ha visto decurtare le contribuzioni che pervenivano normalmente per i canali istituzionali in modo drastico quando addirittura non sono state completamente tagliate e il compito di noi rotariani è quello di servire il prossimo al di sovra del proprio interesse personale diciamo questo è il nostro slogan nel mondo e quindi ci siamo sentiti in dovere grazie appunto alla partecipazione anche degli altri amici rotariani di cui qui abbiamo altri due presidenti del nostro amico del rotariano Roberto Carducci e il presidente appunto dell'Unione Nazionale Cechi di Pesaro di sponsorizzare questa serata per raccogliere fondi per una rara malattia che porta progressivamente i giovani alla cecità. Perché è stato così importante prendere parte a questa iniziativa? È un'iniziativa bellissima, noi e il nostro club il Roma Valatino ha accolto con entusiasmo la proposta di Roberto Carducci dell'Escendero Tisser e di Amleto Mattei il presidente di Roma Sud Ovest perché era un'occasione per stare insieme per fare delle cose, per fare del bene e quindi sopperire a delle carenze e noi cerchiamo di recuperare queste situazioni. Qual è l'atmosfera che si respira questa sera? Beh, una gran bella atmosfera, di grande amicizia e soprattutto di desiderio di fare e senso di solidarietà. Per noi del mio club aderire è stato veramente importante perché tra l'altro anni fa ci siamo occupati dell'Associazione per la Retinite Pigmentosa quindi i problemi collegati ai problemi di vista li conosciamo molto bene quindi quando c'è stata questa proposta sono stata felicissima di aderire e poi in una cornice così stupenda, tutto veramente è perfetto e bellissimo. La finalità è stata detta ormai da tutti, è una finalità benefica legata appunto a questo progetto, rivolta a questo progetto dell'Unione Italiana Scechi di Pesaro. Si tratta di aiutare questi giovani, stiamo parlando di un progetto di cinque giovani che dovranno, potranno, ci auguriamo anche col nostro contributo riuscire a frequentare un corso professionalizzante che consentirà loro di poter accedere al lavoro senza nessuna difficoltà. È una legge dello Stato questo che lo consente, il problema è ovviamente però la contribuzione che mentre prima era a carico delle regioni, la regione Marche è latitante da un po' di tempo. Quanto è importante per voi questo finanziamento, questo sostegno? Guarda, per noi è estremamente importante, infatti io ringrazio veramente il dottor Roberto Carducci che è aderito con entusiasmo a questo progetto, i ragazzi hanno diritto di accedere a un lavoro e per accedere a questo lavoro hanno bisogno di fare questi corsi e purtroppo, come diceva il dottor Carducci prima, non sono più finanziati dal pubblico. Quindi è estremamente importante quello che è successo qui questa sera perché sono corsi anche molto costosi e le famiglie non potrebbero in alcun modo sopperire a questo costo e quindi per noi è estremamente importante anche perché è un segno tangibile che comunque al di là della territorialità i bei progetti trovano comunque qualcuno che li voglia sposare. Questo per noi è anche un segno positivo per proseguire su quello che stiamo facendo.